Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Yemar che vi parla E siamo tornati con Dragon Ball Spark in Zero Nel capitolo di Goku con i What If Siamo in quella che è la saga degli androidi con il Cell Game E qui penso che il What If che ci serve qua E' quello che bisognerebbe ottenere nel caso in cui battiamo Cell direttamente con Goku Credo ma dovremmo essere abbastanza veloci per farlo Fatemi vedere Poco dopo Cell assorbe l'Android E17 avvicinandosi al suo obiettivo finale Poco dopo Cell assorbe anche l'Android E18 ottenendo il corpo perfetto Dopodiché organizza il Cell Game che avrà luogo dopo 10 giorni di preparazione Il suo obiettivo è dimostrare a tutti la potenza della sua forma finale Divertirsi e far sprofondare il mondo nel terrore Goku completa il suo allenamento nella stanza dello spirito del tempo Dice che Cell è ancora più forte di lui ma resta fiducioso Passano 10 giorni e il Cell Game ha finalmente inizio Fa presto C'è stato un giro di un giro di un giro di un giro di un giro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.